La platea degli industriali di Napoli Per settori quali la ricerca scientifica e i trasporti Tra i dati peggiori, la Campania è penultima nella classifica svimez delle regioni per qualità della vita e reddito senza dimenticare che in questi 10 anni ha perso 2,8 di prodotto interno lordo Dalle prove del fallimento Caldoro poi è passato alla presentazione del suo programma Razionalizzazione dei conti della sanità di pari passo al miglioramento dell'offerta qualitativa Nuove regole per l'assegnazione degli incentivi alle imprese, sì alle fonti di energia alternativa lotta all'economia sommersa e l'avvio di grandi progetti strategici Napoli Est e Bagnoli in primis Bagnoli e Napoli Est sono proprio il segnale della cattiva politica del centro-sinistra la cattiva politica continua a dire di chi ha amministrato con De Luca insieme a De Luca, con Bassolino e la Iervolino che hanno amministrato quindi la colpa è tutta loro che dicono che hanno sbagliato bene, noi abbiamo delle idee chiare su come rilanciare l'ho detto in maniera chiara i tempi, anche i tempi per il rilancio di Bagnoli per vedere le prime realizzazioni ma sono iniziative che in altri paesi del mondo si risana un ambiente si ricostruisce in cinque anni noi siamo da vent'anni ormai dei primi progetti sul Bagnoli Napoli Est e sono ancora lì grazie a tutti